Musica Amici sportivi a tutti voi la più cordiale, buonasera. Si profila dunque un'altra domenica piuttosto vivace, interessante nel calcio ma anche nel basket come vedremo più avanti. Iniziamo con la Lucchese che ospita domani in un Portelisa desolatamente vuoto. La gara si gioca a porte chiuse il Fidenza. Vediamo il servizio di presentazione della partita. L'ottava perla di una serie magnifiche, tre punti che consentono di tenere il passo della Coreggese impegnata nella gara interna con il Camaiore. E magari sperare che i cugini Blu Amaranto sappiano fermare la marcia della capolista. Lucchese Fidenza nasce all'insegna di questo ma non solo. Ovviamente non si può dimenticare il fatto che al Portelisa si giocherà a porte chiuse, senza pubblico e di fronte a pochi intimi. Alla vigilia Pagliuca, a sua volta squalificato per due giornate, ha ribadito che la squadra dovrà essere più forte anche di questo. Un paio di dubbi per il 37enne tecnico Rosso Nero a centrocampo dove quattro giocatori si contendono tre maglie. È il solito 95 da schierare al fianco di Caboni e del rientrante Tarantino. Probabile che Mediana il più a rischio sia Rosicco, mentre le non perfette condizioni fisiche di Pecchioli potrebbero spianare le porte della prima squadra a discetti. Vedremo. Ipotizziamo pertanto uno schieramento con Casapieri in porta, Petrini e Specie, Calistri e Terlino in difesa, Nolea Liboni e Chianese in mezzo al campo, Pecchioli o Discetti a supporto di Tarantino e Caboni. L'unico precedente al Portelisa tra le due squadre non è particolarmente confortante. Era il 23 settembre dello scorso anno e la sfida tra Lucchese e Fidenza si concluse sullo 0-0. Gara dettata dalla voglia ma anche dalla poca incisività dei rossoneri, che ebbero qualche occasione ma non brillarono affatto. Fu uno dei tanti stop interni di quella squadra che in casa vanificò quanto di buono prodotto in trasferta, dove a fine anno collezionò ben 11 vittorie. Ma questa sembra davvero un'altra storia. E sempre il tema di Lucchese, una notizia importante di giornata. Si è concluso il Consiglio d'amministrazione dell'ES Lucchese Libertas, nel corso del quale è stata ufficializzata la carica di presidente che va ad Andrea Bacci. Il nuovo vicepresidente invece è Nicola Giannecchini, mentre il ruolo dei consiglieri va Gianluca Campani, Marco Gonzate e Carmelo Sgro. Quindi dopo qualche settimana di attesa Andrea Bacci è il nuovo presidente della Lucchese. Passiamo al Viareggio che è di scena domani sul campo del Lecce, allo stadio di Via del Mare. C'è anche il debutto sulla panchina delle zebre del nuovo tecnico Cristiano Lucarelli. La prima di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Viareggio, che domani sarà di scena sul campo del blasonatissimo Lecce. Curioso il fatto che il tecnico Livornese inizi la sua avventura in panchina proprio dalla città salentina, che lo vide grande protagonista dal 1999 al 2001, con l'infarinatura non trascurabile di 24 reti. Anche l'attaccante esterno Rosafia, un leccese puro sangue, è cresciuto peraltro nelle giovanili giallorosse. Intanto il Viareggio ha raggiunto la Puglia dopo una tappa intermedia a Telesio, in provincia di Benevento, dove in mattinata ha svolto anche la seduta di rifinitura. Lucarelli si affiderà agli uomini che finora hanno giocato con maggiore assiduità. Quindi niente stravolgimenti, tanto che inizialmente le zebre dovrebbero calare sul prato di Via del Mare con gazzoli tre pali. Celiento, Falasco o la morte, con Son e Ferrario, Falasco in difesa, Della Latta, Pizza, Gemignani o Galassi in mediana, Benedetti, Vannucchi e Devena in attacco. E proprio Devena segnò due settimane fa alla Rechi la rete che consentì al Viareggio di uscire indenne dalla Tana della Salernitana. In realtà finora il Viareggio, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ha avuto un rendimento migliore in trasferta rispetto a Alpini, con l'unica eccezione dell'1-4 incassato sul campo dell'Aquila, dove però rimase quasi subito in 10 per l'espulsione del portiere Massimo Gazzoli. Passiamo ai motori, la notizia era nell'aria da qualche tempo, ma adesso è ufficiale. Paolo Andreucci, in veste privata, questo è bene precisarlo, sarà al via del prossimo rally Due Valli in programma a Verona il 15-16 novembre. A bordo di una Peugeot 207 Super 2000 avrà alle note Valentino Gaspari, uno dei navigatori più apprezzati del panorama Scaligero. Per il popolare Ucci, 7 volte campione italiano, si tratterà probabilmente di una delle ultime uscite a bordo della 207 Super 2000, dato che la Peugeot sta sviluppando per il prossimo anno la 208 T16, con cui Paolo Andreucci e Anna Andreussi torneranno alla carica del titolo italiano, già conquistato diverse volte. E siamo al basket, come diceva anche nel basket, una domenica molto interessante, con le nostre squadre impegnate in confronti, a dir poco, Ardui. Un'altra domenica di fuoco per il basket lucchese, grande attesa nella 1 femminile per il big match di domani, ore 17.30, al pala tagliate tra Gesam Gas e Lemur e lo schio campione d'Italia. Di fronte, le squadre che solo pochi mesi fa si contesero il titolo tricolore anche la Coppa Italia, in entrambe le occasioni ebbero la meglio le vicentine. Siamo alla quarta giornata di campionato, le due squadre, assieme alle sorprendenti neopromosse Raguse e Spezia, sono anche le uniche a punteggio pieno. In assoluto si tratta della sfida numero 14 di un confronto divenuto ormai classico dal 2010 ad oggi. 11 le vittorie dello schio contro le sole due della compagine di Coccia Diamanti, che trascinata dal proprio pubblico tenterà l'impresa, perché battere la corazzata a nero-arancio è sempre un'impresa. Nella Deco Silver siamo al settore maschile, l'arcantea pallacanestro Lucca, scottata dalla bruciante sconfitta di giovedì sera contro l'Enegan Firenze, e dopo aver battuto il Treviglio cercherà riscatto sul campo della Bauer Matera. Del resto la squadra del giovane coach Matteo Micacci ha confermato di avere ancora buoni margini di miglioramento, fermo restando che questo rimane un campionato dove non ci si possono concedere assolutamente distrazioni. E con il basket si chiude anche la pagina sportiva del TG Noi, come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di serata, dopo di noi il TG prosegue con la terza ed ultima parte, a tutti voi la più cordiale buonasera.